Pace e bene. Oggi voglio parlare di San Francesco come santo popolare, non tanto riguardo la sua indiscussa popolarità, quanto perché, come abbiamo detto nella puntata precedente, anche egli ha usato delle immagini per rapportarsi con Dio in modo più profondo. Non per niente Francesco nel 1223, attraverso l'aiuto di una persona a lui cara, un laico di nome Giovanni, ha costruito, costituito il presepio. Ha voluto vedere, e sono le sue parole queste, come il Filo di Dio si è consegnato, è venuto in questo mondo donandosi a noi, amandoci, esprimendo così il suo amore. E questo è l'intento di Francesco, vedere quanto Dio ci ha amato venendo in mezzo a noi come uomo. San Francesco dunque è un santo popolare proprio perché ha raccolto questo bisogno di vedere con gli occhi del corpo ciò che Dio fa per noi, proprio come ciascuno di noi che desideriamo vedere ciò che Dio fa per noi, vedere il Signore. E poi, proprio sulla scorta di questa sua prospettiva, i suoi frati un giorno poi divulgheranno anche non solo il presepio, ma la via Crucis. Ecco, però devi tenere presente un'altra cosa importante di San Francesco. San Francesco però è un uomo non soltanto così umano, ma anche evangelico, cioè per lui la parola di Dio era fondamentale, la parola di Dio che purificava il suo modo di vedere, il suo modo di sentire, il suo modo di accogliere e affrontare la realtà. Per lui era veramente importante leggere il Vangelo quotidianamente, confrontarsi con esso, perché il Vangelo era il modo con cui Gesù il Cristo parlava al suo cuore. Lui era convintissimo di questo. Ecco perché allora in questo confronto col Vangelo sa benissimo aspettare i tempi di Dio, anche i suoi tempi, sa benissimo lasciarsi purificare il cuore e la mente, in modo da poter vedere sempre meglio e sempre più in profondità la presenza di Dio intorno a noi, in mezzo a noi e nella nostra vita. San Francesco non è dunque un santo che dice credo in Dio, ma credo a modo mio. Lui invece crede in Dio, ma come Dio vuole. Certo, in modo tale che la nostra fede sia una fede autentica, vera, non soltanto spontanea. E da questo punto di vista, accogliendo quello che Dio vuole, San Francesco vede Dio in un modo tutto particolare, che forse ti è un po' sfuggito. San Francesco da questo punto di vista scopre una novità grande che lo sconvolge. Non guarda più le immagini fatte da mano di uomo, permettimi questo termine, ma cerca di scoprire i segni con cui Dio si mostra a noi. Qui scopre una cosa molto importante, l'Eucaristia. In un certo senso l'Eucaristia è questo farsi presente di Dio attraverso la poca apparenza di pane, come direbbe lui. Si dà un'immagine, si è fatto pane per noi e questa visibilità del pane in mezzo a noi. Se uno dicesse a Francesco, Francesco presentami il Signore, portami dal Signore, fammi vedere il Signore, lui lo porterebbe davanti al tabernacolo e gli direbbe, ecco, questo è il Signore presente in mezzo a noi. È così che il Signore in mezzo a noi si mostra. Il suo modo e il suo desiderio di vedere, illuminato, sorretto, sostenuto, purificato dal Vangelo, soprattutto dalle parole di consacrazione sul pane durante la Messa, lo porteranno a dire così, io non vedo altro in questo mondo se non il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Ecco, per lui il Signore ha scelto questo modo per essere presente in mezzo ai Suoi sino alla fine del mondo. È un modo di vedere, di farsi vedere da parte del Signore, di essere presente e, come dire, dimostrarsi ai nostri sguardi. Noi quando entriamo in Chiesa, non soltanto sappiamo che questo è il Tempio di Dio, ma sappiamo anche dove è Lui, sappiamo anche dove si colloca Lui. E questo ci aiuta molto a focalizzare il nostro sguardo degli occhi e del cuore, perché la nostra preghiera sia veramente una preghiera di relazione diretta, di amore nei suoi confronti. Non si tratta quindi più, come nel mondo virtuale, dove l'immagine può fagocitare la realtà e falsificarla, ma qui è l'esatto contrario. È la realtà che si è, come dire in un certo senso, nascosta dietro poca apparenza di pane per mostrarsi a noi. Qui capisci che allora il Vangelo del Signore, quando pian pianino entra nel nostro cuore, nella nostra mente, ci purifica, ci aiuta a uscire dalle nostre immagini sempre inadeguate, per raccogliere i Suoi modi, le immagini che Lui ci dà per un incontro reale e accogliente di Lui. Ecco, anche questo è un grande dono in tutta la sua semplicità che Dio fa a ciascuno di noi, per potersi rapportare noi con Lui, Lui con noi, in una comunione profonda. San Francesco dunque è un santo popolare perché raccoglie il nostro desiderio di vedere il Signore, però d'altra parte è anche un santo che ci insegna a lasciarci guidare dal Vangelo affinché scopriamo i segni del Signore e attraverso i Suoi segni la Sua presenza e il Suo amore. Pace e bene. San Francesco dunque è un santo che ci insegna a lasciarci guidare dal Vangelo affinché e attraverso i Suoi amore. Pace e bene. San Francesco dunque è un santo che ci insegna a lasciarci guidare dal Vangelo affinché